Il primo gennaio del 1963 nasce a massa Alberico Evani, uno degli interpreti del Milan degli Immortali di Arrigo Sacchi. Dopo un paio d'anni di Under 21 è proprio il tecnico di Fusignano a convocarlo per la prima volta in nazionale maggiore nel 1991, ma la mancata qualificazione dell'Italia agli europei di Svezia non gli consente di essere protagonista nella manifestazione continentale. L'occasione di riscatto arriva con i mondiali statunitensi del 1994, conclusi dagli azzurri al secondo posto dopo la sconfitta ai rigori in finale con il Brasile. Evani gioca ai tempi supplementari ed è uno dei due calciatori dell'Italia a non fallire l'esecuzione dal dischetto. Dopo USA 94 giocherà altre due partite per un totale di 15 presenze in maglia azzurra. Smessi i panni di calciatore, Evani ritrova la nazionale da allenatore nel 2010. Dopo le esperienze sulle panchine delle selezioni Under 18 e Under 19, dal 1 luglio 2013 è l'allenatore dell'Italia Under 20, squadra con la quale si sta già togliendo importanti soddisfazioni. Grazie a tutti.